Dopo dieci anni di pigrizia, Goku è ritornato per salvarci della nuova sfida Majin Bu! Majin Bu! Sono arrivato! Ah, ho visto! Raga, un po' che ti aspettavo io, eh! Giusto dieci anni? Sì, però adesso è ora che muori! Va bene? Ok! E allora muori! Onda Energetico! Maledizione! Non mi è servito a niente! Majin Bu! Testa di cazzo! Majin Bu! Guarda qua! Dovevi morire, ti ricordi? Ma non c'è niente! Ah, non c'è niente? No, va bene! Popolo della terra, alzate le mani! Alza le stronzo, anche voi su YouTube! E adesso come la metti? Male! Per te! No, è ora che muori! Dai! Maledizione! È troppo potente! Va bene! Vorrei dire che mi trasformerò in Super Saiyan! È giunta la Tora! Coglione! Fuori! Stronfo! Ancora una volta, Goku ci ha salvati dalla disfatta! Sì! Il pericolo è finito! Siete tutti in salvo! Grazie! Addio! Tenete sotto!